Giuseppe Quintavalle, commissario straordinario della ASL RMF. Oggi si presenta il manifesto dei diritti della persona con diabete. Quanto è importante questo evento e che cosa rappresenta per le persone interessate? Allora, innanzitutto il diabete rappresenta, non solo per Cività Vecchia, ma per l'intera regione e anche nazione, una delle patologie croniche che deve essere meglio seguita. L'ASL RMF ha iniziato da diverso tempo insieme ai diabetologi sia dell'ASL che esterni una serie di percorsi per adottare delle misure atte alla presa in carico del paziente. Questa giornata mira a sensibilizzare la popolazione, a informarla che ci sono dei diritti anche riguardo quelli che è l'accesso alle cure, l'equità degli accessi, ma principalmente dei diritti legati pure alla conoscenza del diabete sia nell'età evolutiva che è molto importante, che soprattutto poi nell'età adulta. Questo perché addivenendo a delle misure di prevenzione, quali può essere per esempio la dieta, può essere una sana vita sportiva, sicuramente nel futuro si potranno avere meno complicazioni e quindi migliore stato di salute per la nostra popolazione diabetica. Secondo lei questi diritti che oggi vengono ribaditi sono stati disattesi in qualche modo ultimamente? Pensa a un malfunzionamento nei servizi offerti al cittadino? Ma quando si parla di diritti è chiaro che non tutto va come dovrebbe, questo è legato sia a delle contingenze economiche ma soprattutto anche a problemi organizzativi di altro tipo. Bisogna lavorare tutti insieme proprio per far sì che quello che viene detto oggi in questo decalogo di diritti sia sempre più applicato nell'ambito del nostro territorio. Cosa significa per lei essere qui presente alla presentazione del manifesto per i diritti della persona con diabete? Sì, buongiorno. Ma veramente noi siamo nella nostra sede dove abbiamo ospitato questa manifestazione essendo sempre vicini ai problemi della salute come è noto. Sappiamo e abbiamo fatto diversi progetti per quello che riguarda il diabete e la conoscenza del diabete. Sono quelle forme patologiche che comunque possono essere tenute sotto controllo, quindi vanno conosciute sempre di più ed ecco l'importanza di fare conoscenza anche con i mezzi di stampa, i mezzi televisivi. È sempre importante dire che esistono delle attività di prevenzione che possono poi scongiurare certe situazioni che potrebbero diventare effettivamente tragiche. Quindi la fondazione è sempre insieme, è sempre pronta a contribuire, a collaborare per debellare certe malattie e sempre nell'interesse della collettività. Dottor Caputo, buongiorno. Come Presidente di Abete Italia, lei sente a cuore questo problema, problema che sta attanagliando la popolazione italiana sempre di più anche per la popolazione giovanile. Questo problema appunto è stato affrontato con un'iniziativa che guarda alle scuole, è l'alimentazione nelle scuole. Guardi, quando noi diciamo che è affetto da diabete il 5-6% della popolazione italiana, facciamo una semplificazione. Perché in realtà dietro questo 5-6%, 3 milioni e mezzo, 3 milioni e 700 mila persone, ci sono due popolazioni nettamente differenti e ugualmente importanti. Da una parte i diabetici fra 20 e 79 anni, che sono ben il 9% della popolazione in questa fascia di età. Quindi un italiano su 10 che lavora, un italiano su 10 che ha la patente, eccetera, ha il diabete. Dall'altra parte abbiamo circa 15 mila bambini con diabete a livello infantile o a livello adolescenziale. Che tra l'altro si aggiunge alle varie patologie che si stanno presentando sempre di più in età giovanile, come ad esempio la celiachia o altri problemi derivati da un'alimentazione sbagliata. o altre forme di allergia come l'asma o manifestazioni di questo tipo. Ora guardi, il discorso dell'alimentazione è fondamentale da fare perché certe abitudini, se vengono acquisite in modo corretto in giovane età, poi restano per tutta la vita. Poi si è visto che i bambini influenzano positivamente i genitori. Un bambino che riceve educazione sullo stile di vita è molto più convincente di qualsiasi impatto sui due genitori. Questo però è un investimento che pagherà nel futuro perché servirà a prevenire, a ridurre i casi fra 20-30 anni di diabete dell'adulto. La prevenzione del diabete giovanile purtroppo non è una cosa attualmente possibile. Per quanto riguarda il diabete giovanile, la forma che colpisce prima dei 20 anni, per aiutare il bambino e la sua famiglia dobbiamo rimuovere quanto più possibili gli ostacoli che incontra nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, quello più importante, la somministrazione dei farmaci a scuola. Ci sono genitori che si sono dovuti licenziare dal lavoro per poter garantire la somministrazione dell'insulina al bambino a scuola. E questo in un paese civile non può succedere. Quindi voi proponete non solo un progetto di educazione all'alimentazione ma un'effettiva operazione di collaborazione col genitore e quindi un aiuto alle famiglie che non si possono permettere assolutamente di perdere ore preziose di lavoro. Il genitore deve essere aiutato. Il problema del diabete infanto-gevanile non riguarda solo il bambino ma riguarda tutta una famiglia. Il bambino deve ricevere a scuola così come la scuola in un certo qual modo si sostituisce alla famiglia per l'educazione allo stesso modo deve prendersi carico anche dei problemi di salute. Questo non è un problema che riguarda soltanto il diabete riguarda l'asma, riguarda i bambini con l'epilessia sono diversi i problemi della somministrazione dei farmaci a scuola e ripeto, lo Stato se ne deve fare carico.